Servizi funebri cavesi offre un servizio di onoranze funebri completo e su misura per ogni tipo di esigenza. Siamo a Cava dei Tirreni in corso Mazzini numero 224. Per salvare il centro aggregazione di San Giuseppe al Pozzo ad oggi nulla è stato fatto. A dichiararlo con una vena polemica è il consiglio direttivo del centro aggregazioni anziani Francesco Lamberti sito nella frazione di Cava dei Tirreni i cui membri appaiono preoccupati per l'assenza di comunicazioni e di riscontri in sede istituzionale. Era stata prospettata tempo addietro una soluzione per evitare la chiusura delle strutture per attività degli anziani che fossero più a rischio ossia quella che i centri stessi si facessero carico dei costi delle utenze ma negli ultimi mesi il problema non è stato affrontato nei vari consigli comunali previsti a Cava e neppure si prevede al momento di discutere della questione nell'assise di domani pomeriggio. Dopo la bocciatura dell'ordine del giorno per l'annullamento della delibera del primo giugno 2023 ritenuta pretestuosa e di sapore prettamente politico così il direttivo ricostruisce gli ultimi eventi si era divenuti a un accordo che l'intera questione sarebbe stata frutto di un ulteriore approfondimento nelle commissioni competenti per poi giungere alla soluzione del problema. Il tutto dopo le rassicuranti parole del sindaco ma soprattutto dei vari consiglieri di maggioranza i quali attraverso dichiarazioni ufficiali agli atti del consiglio e della stessa annetta Altobello assessore al ramo dichiaravano e si impegnavano dopo un ulteriore passaggio in commissione che il tutto si sarebbe risolto fino al riconoscimento degli altri centri che hanno i requisiti e rimasti fuori dalla precedente delibera. Ci rifacciamo alle dichiarazioni del consigliere Barbuti, Manzo, Paola Landi e di tutti quelli intervenuti nella discussione. A distanza di quasi due mesi tutto tacei. Dal centro aggregazione Lamberti fanno sapere che si attenderà ancora una volta pazientemente l'evolversi della problematica. Trascorso un tempo Congruo metteranno in atto tutte le strategie necessarie affinché venga riconosciuto quello che loro definiscono un sacrosanto diritto ovvero quello del riconoscimento ufficiale quale centro aggregazione anziani. Si parlava di organizzare in caso di mancato affronto della questione un consiglio comunale all'incontrario ossia che la gente comune interessata sarebbe scesa in piazza a discutere e se lo avessero voluto i consiglieri comunali avrebbero potuto assistere. Nel frattempo il centro in occasione delle festività natalizie ha messo in campo e continua a organizzare una serie di iniziative quali raccolta alimentare per il convento di San Francesco già effettuata, serate associative quali torneo di burraco e tombolata sabato 3 febbraio durante la quale sarà devoluto il ricavato di un'ulteriore raccolta alimentare alla presenza del rettore del convento padre Pietro Anastasio, rappresentazione teatrale sabato 11 e domenica 12 febbraio.